Temptation Island 2017 Ecco chi si sposa nell'ultima puntata. Prima parte. Rubin Vernizzi e Francesca Baroni con volano a nozze. Inizialmente, un po' tutti hanno dato per scontato, che la coppia che si sarebbe sposata, sarebbe stata quella formata da Francesco Chefalo e Selvaggia a Roma. I due, infatti, sono palesemente innamorati, a dispetto delle liti, e del loro essere molto folcloristici nei loro bisticci. Ma se non fossero loro, e se Raffaella Mennoia si riferisse invece, alla coppia più impensabile di tutte, esatto, proprio quella formata da Rubin Vernizzi e Francesca Baroni. Ora, che lui si è innamoratissimo, del resto, è più che evidente. Lei invece, finora ha tenuto un comportamento inqualificabile. Seconda parte. I depistaggi che preparano lo scoop, insultando in continuazione il fidanzato, infatti, si è attirata alle antipatie di tutta Italia, ma va detto, che quei gesti, non gli ha mai mancato di rispetto. Non per questo il suo comportamento è meno grave, certo, ma se Francesca Baroni d'ora in poi cambiasse atteggiamento, se capisse, grazie alla lontananza, che nonostante i suoi difetti e il poco carattere, è proprio Rubin che vuole. Insomma, tutto è possibile, ma una cosa pare certa. Attualmente Rubin e Francesca sono a casa insieme. Se da fidanzati o da novelli marito e moglie, lo scopriremo a breve, a presto con tante altre novità provenienti da Temptation Hell in 2017.